È evidente che so qualcosa in più non di quello che ho scritto, ma so che quello che ho scritto corrisponde a verità, cioè che ci sono indizi convergenti da fonti autorevole che qualcuno sta indagando su Arianna Meloni con l'ipotesi che Arianna Meloni abbia commesso dei reati attinenti, io non conosco il capo di amputazione precisa, ma comunque attinenti al traffico di influenza sulle nomine pubbliche che ci sono state di recente e che alcune di queste sono all'ordine del giorno del governo in questi giorni. Questo mi risulta con certezza, se no non avrei scritto evidentemente. Come vada a finire questa vicenda è materia che seguiremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Certo, io però sono costretto direttore a portarti subito nel vivo della polemica perché facevamo riferimento al comunicato dell'Associazione Nazionale Magistrati, ma ancora più duro di quelle parole che rinnovano il pericolo di un conflitto tra politiche e magistrature di una delegittimazione del terzo potere istituzionale, diceva ancora più duro di quel comunicato è l'intervista che oggi il Presidente dell'ANM, Santa Lucia, affida alle pagine di Repubblica. Io conto fantasie, congetture, illazioni malevoli, giornalismo che offende la democrazia, fantastiche invenzioni, fandonie. Questo è il giudizio che il rappresentante dei magistrati fa alla tua ricostruzione. Ma guarda, io credo che, allora, quello che dice Santa Lucia sia nel comunicato ufficiale sia nell'intervista di oggi è praticamente la fotocopia, cambiano i nomi, ma gli aggettivi e i contenuti sono gli stessi delle dichiarazioni e dei comunicati che l'Associazione Nazionale Magistrati ha fatto negli ultimi 30 anni ogni volta che si entrava in corto circuito con la politica. Poi abbiamo scoperto una cosa, cioè quei comunicati usano le stesse parole, attacco alle toghe, minata l'indipendenza delle toghe, fandonie, che per esempio scriveva Luca Palamara quando era segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati. Poi Luca Palamara ci ha raccontato un'altra verità totalmente opposta al contenuto di quei comunicati, cioè si è scoperto che il sistema mediatico giudiziario esisteva e ha operato a lungo e anche con una certa efficacia ed efficienza. Io credo che di fronte a una notizia di ipotesi che qualcuno stia andagando su Arianna Meloni, immagino io, uso un eufemismo, che la procura interessata sia quella di Roma, essendo la sede dove avvengono le trattative politiche. Ma tre righe della procura di Roma che dicessero escludiamo categoricamente di avere in corso qualsiasi attenzionamento di Arianna Meloni sarebbero state più serie e più efficaci. Prendo atto che a distanza di tre giorni questo non è accaduto. Quindi tutto il resto sono opinioni. Allora, primo...